Contrasto alle complicanze vascolari indotte dal diabete condotto presso l'IRCS Neuromed di Pozzilli, un importante studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica americana. Un nuovo approccio farmacologico contro le complicanze vascolari nei diabetici. La ricerca condotta dal laboratorio di fisiopatologia vascolare dell'IRCS Neuromed di Pozzilli e pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica americana punta a migliorare le prospettive delle persone che soffrono di diabete. Si tratta di una molecola sperimentale che si è rivelata efficace in test di laboratorio condotti su tessuti animali e sangue umano nella prevenzione di due aspetti importanti della patologia diabetica la disfunzione endoteliale e l'iperattivazione piastrinica. Questi due fattori contribuiscono nei pazienti diabetici all'aumento di rischio per patologie cardiovascolari come infarto e ictus. La possibilità di limitarli quindi rappresenta una prospettiva terapeutica molto promettente. Farmaci capaci di limitare l'aggregazione piastrinica, dice Carmine Vecchione, professore presso l'Università di Salerno all'IRCS Neuromed, vengono già impiegati nei diabetici, l'aspirina a basse dosi ad esempio, ma sappiamo che alcuni pazienti presentano una resistenza a questo farmaco per cui le piastrine rimangono attivate con un importante aumento del rischio trombotico. Avere nuove armi farmacologiche è quindi una necessità. I ricercatori Neuromed si sono concentrati in particolare su una proteina, RAC1, coinvolta nei processi infiammatori. Abbiamo, spiega ancora Vecchione, una combinazione di effetti molto interessante da parte di questa molecola. Da un lato viene migliorata la funzione endoteliale, dall'altro viene limitata la capacità delle piastrine di aggregare tra loro. Potrebbe significare una importante riduzione di rischio in chi è affetto da diabete.